A Raffadali sono terminate le ripresse del film Storia di un Boss, diretto dai registi Carmen Basile e Vito Oliva, che ascoltiamo al nostro microfono insieme ad alcuni degli attori, Maria Casalicchio e Gerlando Meli. Allora, sono qui a presentare il film La Storia di un Boss, è stato girato tutto quanto a Raffadali e dintorni. E questo film qui verrà proiettato intorno al 20 settembre 2021, adesso è data da stabilire, a Palazzetto dello Sport di Raffadali. Ringrazio principalmente al pittore Gerlando Meli che ci ha dato una mano quanto riguarda come produzione a me e a mia moglie Carmen Basile e la regia, però è anche attore. A Maria Casalicchio che ha dato una mano sia nella produzione e come attrice. In questo film ci sarà l'attore principale che è Mario Pupella, Tony Gangitano, Mario Sperrazza, Vito Oliva, che sono io, e Roberto Infranco. Poi ci sono gli altri attori, vabbè, non sto qui a nominarli tutti perché sono tanti. Questo film parla più che altro di spiegare di non entrare dentro la mafia perché fa male, perché si può uscire solamente o morti o arrestati. Il titolo sembra mafioso, ma non è mafioso perché bisogna vedere il film, c'è contenuto sia d'amore e di effetti sulla famiglia, è molto forte. E poi a parte questo voglio anche ringraziare tutti gli abbinanti di Raffadali, compreso il sindaco che è venuto a mancare, anche perché a novembre saremo in tutti i cinema d'Italia e spero di arrivare anche oltre. In questo momento la potenza che avremo è questa qui, di essere qui a presentare questo film e a 20 settembre spero di aspettarvi numerosi, a Palazzetto dello Sport, l'anteprima con un po' di backstage per capire di quello che parla. Aggiungo che Pietro Di Noto sarà ospite che mi ha regalato un libro a me e mia moglie col titolo L'onore. Parla dell'onore di famiglie siciliane e anche oltre. Poi a parte questo con questo faremo il prossimo film. Si fermerà per un momento Storia di un boss, invece che andare avanti Storia di un boss 2, faremo l'onore. E spero che grazie a questa persona abbastanza importante andremo avanti, visto che è un grande scrittore.